eccoci qua buongiorno di nuovo sono le 16 in giappone quindi in italia sono le otto e un quarto di mattina credo quindi c'è qualcuno che mi sta guardando non credo proprio ma comunque iniziamo questo è il secondo video perché ieri ho registrato il proprio il commemorativo il primo commemorativo video tramite facebook live poi successivamente successivamente ho caricato il video anche su youtube in una nel largo di circa 24 ore ho visto 22 visioni praticamente 20 20 persone circa hanno guardato il mio video sono molto felice grazie vi ringrazio ringrazio molto a chi ha guardato il mio primo video questo è il secondo video in 30 minuti parlerò un po' del giappone 30 minuti sarà saranno suddivisi in tre parti la prima parte come vedete qui attenzione questo guardate menù di oggi la parte prima cucinare nella stanza dell'arbergo quando voi verrete in Giappone cucinare in una stanza dell'arbergo come è possibile seconda parte conversazione di emergenza emergenza terza parte ieri ho parlato un po' dei ristoranti giapponesi da provare a Tokyo e Kyoto e siccome ho fatto un elenco anche con i ristoranti occidentali vorrei parlare oggi di questi cinque ristoranti occidentali che si trovano sia a Tokyo che a Kyoto ok iniziamo state guardando credo state guardando sì questo documento sì ok la prima la prima parte oggi vorrei parlare magari nei prossimi video oppure vorrei parlare dei cibi giapponesi particolari ma non di sushi tempura sashimi ma queste cose magari si trovano già in Italia molti di voi avranno già assaggiato avranno già provato tutti questi piatti cosiddetti tipici giapponesi oggi ho comprato no anzi ho comprato poco fa poco tempo un po' di tempo fa oggi parliamo di questo cucinare nella stanza dell'arbergo solo con acqua bollente in albergo in Giappone di solito c'è un bollitore dell'acqua acqua del rubinetto in Giappone è potabile quindi generalmente ma 99 per cento dei casi è potabile almeno che lei non vada voi non andiate è un posto sperduto magari dal rubinetto esce fuori acqua di pozzo ma in questo caso un po' c'è da mettere un punto interrogativo ma quindi generalmente viaggiando a Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara in queste città grandi acqua di rubinetto è potabile sempre anche se ormai anche i giapponesi come da voi comprano acqua minerale come acqua potabile per bere solo per bere magari anche i giapponesi sono abituati quasi da decina di anni a bere acqua minerale acqua minerale acquistandola va bene quindi avendo acqua bollente in camera si può preparare acqua bollente in 2-3 minuti con acqua bollente nella stanza si può cucinare una pasta in tazza una pasta in tazza in Giappone si chiama il cup noodle questo cup noodle cup è tazza noodle è la pasta sarebbe questo questo c'è un cerofano sopra se la toglie la cerofano e poi aprire qui qui c'è una una chiusura di carta aprire un po' fino a questa linea non si vede qua fino a qui non aprire tutto aprire qui piegandolo e si mette acqua bollente dentro e chiude chiude con due orecchie qui per fissare qui questo coperchio di carta va fissato al bordo di questa tazza per cuocere per far cuocere la pasta e il brodo che sta dentro già preparato in tre minuti in tre minuti dopo tre minuti uno apre questa carta e si mangia magari con i giapponesi mangiano anche con pastoncini oppure con una forchetta forchetta dove si compra questa cosa di solito vi danno anche una forchetta di plastica usa e getta oppure bastoncini di legno magari usa e getta e se dimenticate di ricevere questa forchetta né un paio di bastoncini potete chiedere in albergo magari vi daranno anche una una forchetta di plastica usa getta così dopo tre minuti apre non buttare dell'acqua perché è dentro del già brodo pronto mettendoci dentro acqua bollente e la pasta la pasta essiccata diciamo e prende l'acqua assorbe acqua bollente quindi diventa molle e poi contemporaneamente dentro c'è una polverina di brodo che si scioglie e diventa una sarebbe una pasta in brodo questo capo sapete quando nato questo in che anno secondo voi questo è il primo la prima pasta istantanea si chiama la pasta in brodo in istantanea sarebbe il ramen istantaneo che nacque nel 1971 71 71 quindi 50 anni fa questo nacque 50 anni fa milioni di mia se non sbaglio miliardi di pezzi sono stati venduti in tutto il mondo negli ultimi 50 anni miliardi e costa un euro e 10 20 circa costa pochissimo ma calorie 350 351 calorie brodo 24 chilocalorie e poi pasta 327 totale 351 questo è il primo il primo cup ramen ramen in tazza che si chiama il cup noodle cup noodle è il marchio registrato quindi solo questo si chiama cup noodle e questa è l'origine della pasta istantanea che si cuoceva semplicemente mettendoci dentro acqua bollente ok ci sono diversi gusti curry curry questo è il gusto al curry voi chiamate curry in giapponese si chiama kare neanche kari kare in giapponese cup noodle kare poi c'è anche questo seafood noodle she food she food gusto di frutti di mare un po brodo un po bianco brodo un po bianco molto buono tutti tre gusti ma non non lo mangerei tutti i giorni ma qualche volta a mese magari magari buono si dice che fa ingrassare molto questo se mangi tutti i giorni tutti i giorni puoi guadagnare tanti chili in tempo molto breve quindi hanno cominciato a vendere anche questo molto somigliante e nome uguale cup noodle della stessa società ma questo originale questo rosso rosso sul bordo sulla cima tutto rosso questo è una cosa più leggera cup noodle è leggero si chiama e pasta il peso della pasta che sta dentro è un po di meno di questo quindi si grassa di meno si dice che c'è anche c'è anche c'è anche c'è anche questo originale e questo semplice leggero non sbagliate quello semplice costa di meno non ho mai assaggiato ancora quello reggero ma assaggero dopo magari quindi non so com'è esattamente quindi vi consiglierei di comprare questo originale originale va bene quindi abbiamo parlato di cup noodle da cucinare solo con acqua bollente non è che la società produttore che si chiama la società Nishin mi ha sponsorizzato per questo video ovviamente ho comprato io quindi non è che sto facendo la pubblicità di questa società ma devo dire che vendendo miliardi di pezzi prodotti ultimi 50 anni credo che sia una prova della qualità qualità di buon gusto almeno ok questo è il cup noodle va bene il cup ramen come scritto qui quindi tutto il resto tranne questo si chiama cup ramen anzi questo fa una parte di cup ramen ma cup noodle è solo questo e tutti altri tutti altri tipi somiglianti a questo si chiama cup ramen ok bene oggi passiamo alla seconda parte seconda parte seconda parte è la conversazione di emergenza ho intitolato e due frasi di oggi cerchiamo di imparare due frasi utili super utili la prima frase seconda frase seconda frase sarebbe avete qualche medicina per la stitichezza perché stitichezza sono stitico sono costipato costipata sono stitica per dire la verità facendola il servizio di guida accompagnando tanti gruppi italiani abbiamo avuto la richiesta di trovare una medicina per risolvere il problema di stitichezza quindi perché viaggiando in gruppo magari dormendo in una stanza doppia per otto giorni dieci giorni mangiando mattina pranzo cena mattina pranzo cena magari tante volte pesce crudo uovo uovo crudo fritto così e mangiando facendo la colazione all'americana quindi in abbondanza magari molte persone si trovano in difficoltà ad andare in bagno quindi questo è il problema che abbiamo verificato negli ultimi anni per i gruppi turistici italiani avete qualche medicina per la stitichezza benpi sarebbe la stitichezza state guardando questo documento sì e poi stitichezza e poi yaku yaku sarebbe medicina in questo caso benpi yaku sarebbe la medicina per la stitichezza questo medicina per la stitichezza sarebbe benpi yaku xxxx va a li masca avete qualche yaku 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 sarebbe mal di testa zutsu yaku la medicina sempre arimasca avete o mal di testa in giapponese si dice atamaga itai desu non desu non 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 desu non morema desu benpi sedighezza sono sedico desu benpi desu sono sedico atamaga itai itai sarebbe mal atamaga la testa atamaga itai sarebbe mal di testa o mal di testa desu è un soffisso che viene messo alla fine della frase per rendere la frase più cortese oppure per dire sono stitico benpi acqua rimasca avete qualche medicina per la stitichezza seconda zutsu yaku a rimasca zutsu yaku a rimasca avete qualche medicina per mal di testa questa è la seconda frase la terza parte terza parte i ristoranti occidentali da provare a tokyo e kioto ieri qui ho scritto i ristoranti giapponesi da provare a provare a tokyo e kioto quindi oggi vediamo questi due tokyo questi due bulgari il ristorante questo è ovviamente il ristorante italiano il lo chef si chiama credo chef luca fantin fantin credo è un signore abbastanza giovane molto elegante ovviamente molto bello molto buono molto particolare anche i suoi piatti vediamo vediamo un po il un sito non proprio suo questo ecco adesso mi pare che ci sia anche a osaka mi sembra sembra di sì il ristorante molto elegante così per quanto riguarda bulgari di tokyo ristorante bulgari di tokyo sta al centro di ginza questo signore credo che sia luca fantin bravissimo ubento box pure così sia aperto sia per il pranzo dalle 12 e luna e 30 giapponesi mangiano generalmente da da mezzogiorno e a luna finisce quindi anche qui apre a mezzogiorno e chiude a luna e 30 di sera a 5 e mezza fino alle 8 8 è l'ultima ordinazione così l'ingresso praticamente al centro di ginza c'è un palazzo bulgari sopra sulla terrazza c'è un bar e poi anche piano di sotto private room questo è ottavo piano e qui c'è anche bulgari bar questa è la terrazza don perignon si chiama e questo il ristorante private room scritto location sta a ginza questo è uno e forse non guardavano scusate faccio vedere di nuovo queste bulgari il bulgari strante e lo chef luca fantin momento box di bulgari questa è la tavola pranzo 12 12 a luna e 30 cena 5 e mezza 8 questo è l'ingresso di bulgari private room illustrante ottavo piano scusate questa è terrazza don perignon lounge e il bulgari bar pure al centro di tokyo c'è questo palazzo bulgari dentro c'è anche questo ristorante molto molto elegante ok poi questo posto successivo che si chiama mon cher ton ton questo è molto interessante vediamo questo è il ristorante di teppanyaki teppan è questa piastra piastra di acciaio questa e qui dentro si mettono i cuochi chef e i clienti si siedono qui intorno è bellissimo questa è una forma di conchiglia conchiglia aperta si mangia la carne questo tipo di carne di di primissima qualità e viene cotto praticamente una bistecca che viene cotta su questa piastra in questo modo ci sono anche delle altre tavole ad ogni tavola viene il cuoco e cuoce davanti a sotto gli occhi dei clienti questo è mon cher ton ton veramente elegante era bistecca tipo questo carne tipo così sarin chateau blian e anche aragosta questa è abalone e verdure eccetera io sto semplice perché si cuoce sulla piastra sotto gli occhi sare pepe e basta è molto elegante molto buono poi passiamo a Kyoto questo è questo è il ristorante italiano a Kyoto che si chiama sodo higashiyama sodo ristorante cucina tipo cucina creativa italiana tipo così c'è lunch afternoon tea dinner vediamo se c'è tipo così pranzo no sono dolci special course le porzioni sono piccole ma anche come da voi il ristorante elegantissimo che offre la cucina creativa italiana magari hanno diverse portate ma ogni portata è piccola portata porzioni scusate questo è l'anci dinner vediamo dinner così molto minimalista la base scritta la base la base della della loro cucina è la cucina italiana tradizionale scritta la base anche se non ci sono non sembra che ci siano le paste queste sono questo è un ambiente intorno no anzi è dentro questo distrante molto grande questo molto elegante molto chic questo è sotto poi questo invece pittoresc pittoresc è l'istorante che si trova all'interno di un albergo che si chiama Okura Kyoto Hotel Okura si chiama Kyoto Hotel Okura albergo di lusso al piano di sopra qui diciassettesimo piano c'è questo ristorante al pranzo mi sembra che ci sia al buffet o la o adesso forse non lo fanno più perché per il problema di covid quindi mi sembra che ha menu lunch menu 8000 yen 12000 yen questo è per il per capodanno questo però mi piaceva molto mi piaceva molto questo ristorante perché il ristorante è panoramico poi poi i piatti sono veramente squisiti essendo di un albergo di 4 stelle 5 stelle il servizio del personale è molto alto quindi è molto consigliabile e un altro vicino a questo albergo c'è un altro ristorante che si chiama Fortune Garden Giardino di fortuna questo è un palazzo si fa anche banchetto per i banchetti per i sposi questi sono ristorante lunch caffè si può prendere anche caffè qualche torta dolci insieme e dinner si può fare una festa è un palazzo intero il ristorante quindi ha più piani ogni piano ha atmosfera un po' differente Fortune Garden Kyoto anche questo c'è anche pagina in inglese dopo magari potete e visitare con comodo c'è anche la terrazza così è un palazzo un palazzo storico ok va bene allora abbiamo parlato di cinque ristoranti occidentali dopo magari nei prossimi video parlerò di altri ristoranti perché i primi questi ieri oggi ho parlato di ristoranti di categoria molto molto alta perché questi ristoranti spesso venivano utilizzati per i gruppi VIP oppure gruppi MICE per le aziende magari quindi però ovviamente si può andare anche privatamente in due persone tre persone quattro persone non c'è nessun problema in tutti questi distanti ok oggi mi fermo qui abbiamo parlato oggi di Cup Noodle torniamo indietro abbiamo parlato abbiamo parlato di Cup Noodle abbiamo parlato di conversazione d'emergenza sedichezza e mal di testa poi gli stranti occidentali da provare Tokyo e Kyoto bene mi fermo qui ci vediamo presto grazie per aver visitato aver avermi accompagnato fino alla fine grazie ciao